Vi siete mai chiesti come è fatta un'auto elettrica? Insomma, che cosa si nasconde sotto? Bene, quella che vedete, parzialmente smontata, ha percorso qualcosa come 100.000 km in meno di due anni. E allora qui vedete le portiere, anteriori e posteriori, più in fondo c'è il cofano, i cerchi, abbiamo smontato anche i dischi, i mozzi, le pastiglie e ovviamente il sottoscocca, perché la cosa più importante è qui dietro, alle mie spalle, la batteria. E allora sarà interessante capire, dopo così tanta strada, in così poco tempo, il suo stato di efficienza. Lei, se ancora non l'avete riconosciuta, è un Audi Q4 e-tron Sportback, un SUV, diciamo, medio, 4 metri e 59 da un paraurti all'altro. Ha una batteria da 82 kWh, la trazione è solo al posteriore. 204 CV per un peso sulla bilancia di 2.223 kg in condizioni di prova. Siamo partiti nel 1958 con la Fiat 500. De lì in poi la prova di durata dei 100.000 km per quattro ruote è sempre stata un appuntamento fisso al servizio dei lettori. Insomma, un estenuante test per mettere a nudo debolezza e punti di forza di modelli appena lanciati sul mercato. Condensare in pochi mesi quello che solitamente una macchina fa in una vita non è roba da poco. Siamo quindi particolarmente, anzi direi sono, molto curioso di vedere come si è comportata un'elettrica, tipologia di vettura finora mai utilizzata per i nostri test di durata. che poi sarà un'utilissima cavia per rispondere ad alcuni interrogativi di cui abbiamo ancora poche evidenze. Per esempio, la durata della batteria. E allora, ritorniamo alla domanda che tutti stavate aspettando. Come si presenta una batteria dopo 100.000 km? E soprattutto, serve cambiarla oppure no? Ma prima, visto che abbiamo a disposizione una batteria così aperta, cosa che non capita tutti i giorni, entriamo un po' più nel dettaglio. Ecco, questi rettangoli neri che vedete sono appunto i moduli che contengono le celle che a loro volta contengono l'elettricità. Il tutto è collegato in serie tramite questa sorta di parte centrale arancione che porta tutta l'energia qui dietro dove sono dei gigaconnettori. Sì, un po' come succede sulle automobiline ma in forma più grande. Questo serve proprio a collegare la batteria all'auto. E lì davanti c'è il circuito di raffreddamento perché sì, anche la batteria va raffreddata o riscaldata a seconda dei casi. In più, piccola curiosità, questa è una delle quattro viti che servono per fissare fisicamente la batteria al pianale più una miriade di altre piccole viti, addirittura 82, solo per coprire la batteria. Esatto, per svitarle abbiamo utilizzato con i tecnici Audi degli appositi sistemi come per esempio questo cacciavite che è totalmente isolato. Pensate che per percorrere questi 100.000 chilometri in meno di un anno e mezzo sono entrati qui nella batteria qualcosa come 23 megawattora o detta diversamente 23.000 kilowattora, quindi tantissimi cicli di carica-scarica. Insomma, l'abbiamo messa sotto stress. A rispondere sono ancora una volta i numeri del centro prove. Pensate, ha perso il 6% di capacità in 100.000 chilometri. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso siamo al 94%, quindi è in grado di immagazzinare il 6% in meno in fase di ricarica, rispetto a quando era nuova ovviamente, e di fornire energia per il 6% in meno in marcia. Quindi un degrado, se ci pensiamo, tutto sommato molto contenuto. Per dirvene un'altra, facendo una proiezione, se continuassimo a utilizzare l'auto con questo ritmo, dopo 6 anni avrebbe qualcosa come 300.000 chilometri, con una riduzione della capacità della batteria del 18%. Quindi a 10 anni di distanza ci si aspetta 500.000 chilometri percorsi e una perdita del 30%. Quindi, semplificando al massimo i calcoli, se da nuova, dati centro prove alla mano, di media percorreva 420 chilometri, dopo 10 anni e 500.000 chilometri, con una batteria al 70%, dovrebbe percorrere di media 294 chilometri. Prima di procedere, però, è interessante fare il punto su quanto si sia speso per percorrere 100.000 chilometri. Non soltanto in ottica strettamente Audi Q4, ma per capire più in generale i costi di muoversi in elettrico. Dai numeri si nota che la spesa più grossa è stata quella per le ricariche, con 7.715 euro tra ricariche fatte a casa e pubbliche, poi i pneumatici, 3.700 euro per quattro treni estive e invernali, e 140 euro suddivisi tra manutenzione ordinaria, rabbocco liquidi e tergi cristalli. Totale, 11.556 euro. Con un SUV a gasolio di segmento C, in media si sarebbero spesi circa 11.500 euro solo per il carburante, a cui si sarebbero dovuti aggiungere gli pneumatici, e teniamo conto della stessa spesa, oltre alla manutenzione, circa 1.000 euro. Siamo quindi a poco più di 16.200 euro. Dall'officina al nostro 100 prove di Vairano, perché questa analisi approfondita della batteria, dello stato di usura della batteria, di certo non poteva esaurirsi con l'Audi Q4 e-tron, e allora abbiamo preso altre auto strachilometrate, proprio per avere un'idea ancora più chiara della situazione. Del resto i punti sono sempre quelli, cioè capire dopo quanti anni la batteria perde di efficienza, e soprattutto se questo calo è repentino oppure no, e dopo quanto si verifica nella vita reale. Tesla Model 3 Dual Motor, anno 2019, batteria da 75 kWh, chilometri percorsi 432.454, in appena sei anni. Di sicuro la Tesla Model 3 più chilometrata d'Italia. Marco, il proprietario, è stato il primo tassista in Italia ad usare una Tesla. Nissan Leaf, 30 kWh, anno 2016, batteria appunto, da soli 30 kWh da nuova, chilometri percorsi 260.385, è l'auto personale del nostro ingegner spacone, che ha utilizzato in lungo e in largo per mezza Europa, per ricavare dati sulle batterie. E poi Hyundai, Kona e V, anno 2020, decisamente più recente, batteria da 64 kWh, appartiene a Marco, che in quattro anni le ha fatto percorrere 146.355 km. Infine, una BMW, la i3, versione da 94 Ah, anno 2017, ha una batteria da 32 kWh, che può essere ricaricata, anche in marcia, da un piccolo motore di derivazione motociclistica, Chimco per la precisione, che di fatto ne allunga l'autonomia complessiva. È la seconda auto del vice direttore di quattro ruote, Marco Pascali. Il montaggio è piuttosto semplice, si individua la porta OBD dell'auto, di solito dietro uno sportellino sulla plancia, ma può variare da modello a modello, alla quale poi si attacca il modulo Bluetooth, che trasmette i dati della batteria al cellulare. Uno strumento che serve a certificare, cioè a verificare, come già ricordato dal nostro ingegnere, lo stato di efficienza dell'accumulatore, e che quindi può tornare molto utile quando si ha in mente, per esempio, di comprare un'auto elettrica usata, per capire precisamente quanto ancora sarà lunga la vita della batteria e per quanto altro tempo potremo utilizzarla senza problemi. E allora, arrivati a questo punto, non posso non coinvolgere il nostro Inge Leonardo Spaccone, esperto di auto elettriche a quattro ruote. Senti, ma l'hai portata la valigetta? Eccola qua. Perfetto. Da dove vogliamo cominciare? Allora, io possiamo cominciare, secondo me, dalla Tesla, bella ghiotta, 430.000 km, forse qualcosa in più, sicuramente la più chilometrata Model 3 in Italia. Che dici? Dai. Vai. Andiamo ad analizzare tutti i dati importanti nella valutazione di una batteria. E che spieghiamo quali sono i dati importanti da tenere a mente in un certificato del genere. Prima di tutto, la capacità massima, cioè l'energia che questa macchia, questa batteria, è in grado di accumulare rispetto al nuovo. Per la Tesla è ancora all'83%, dopo 400 e passa... 433.000 km? 1.000 km. E 5 anni di vita. Sì, è una 2019. Un altro aspetto importante è come è stata caricata l'auto. Nonostante sia stata caricata principalmente all'89% in corrente continua e all'11% in corrente alternata alla presa di carica domestica, quella lenta, comunque ha ancora una capacità del tutto invidiabile al nuovo. E poi l'ultimo, l'ultimo aspetto importante, sono le singole celle. Come vedi dal grafico, tutte le celle sono ben bilanciate. C'è una differenza di soli 6 millivolt tra la cella con tensione minima e la cella con tensione massima. Quindi niente praticamente. Praticamente, quest'auto che nasceva con 74 kWh, netti, adesso ne ha 62, cioè la stessa quantità di energia della tua nuova Model 3. Pensa. Ok, procediamo con... Passiamo alla prossima. Se andiamo per chilometri percorsi, adesso è il momento della Nissan Leaf, della tua, vai. La storica Nissan Leaf 30 kWh. Che macchina, ragazzi. 30 kWh da nuova. Va bene, procediamo. 260.000 km a un 2016, quindi quasi 8 anni. 56%, qui dobbiamo mettere anche le virgole, 56.5% di capacità residua rispetto al nuovo. E quindi com'è questo valore? È basso, però è anche una macchina che ha tanti anni e percorso tanti chilometri. È un'auto con la quale è difficile raggiungere Milano 500 km al giorno, ma è perfetta per l'uso quotidiano, per chi percorre il pendolare che percorre 100 km al giorno. E può caricare magari a casa oppure al lavoro. Ma andiamo a vedere lo sbilanciamento, come abbiamo visto prima, sulla Tesla. Ecco, qua sembra di essere un po' sulle montagne russe. Vedo un grafico molto altalenante. Le celle, la chimica della Leaf, che tra tutte quelle che abbiamo certificato, è l'unica a non avere una climatizzazione attiva del pacco batterie, quindi quando la ricarichi rapida e ci fai tanta strada, la temperatura aumenta. Non c'è un sistema di climatizzazione che la abbassa, quindi questo è un fattore di accelerazione di degrado. Infatti, vediamo che parte di queste celle sono sbilanciate. Ripeto, non è un'auto da buttare, è un'auto che va... Semplicemente può far comodo a chi ha delle esigenze diverse. Di spostamento inferiori. Ok. Vogliamo anche vedere quante ricariche rapide. Dicci quante ricariche rapide. della Kona, che in ordine di chilometraggio la Kona ha percorso... Era intorno a 143.000 km. Quindi, comunque, come vi dicevo all'inizio, parliamo di auto che hanno fatto ancora più strada della Q4 che abbiamo valutato e smontato quasi pezzo pezzo. Quindi lei partiva da una batteria da 60... 64 kWh disponibili. In realtà le batterie di Kona sono leggermente più grandi. Al momento è al 93% di capacità residua. Quindi ha perso un 7% dei 64 garantiti. In quattro anni. In quattro anni. Sbilanciamento celle è a zero. Quindi le celle sono molto bilanciate. Anche perché l'auto dà un dettaglio di 20 millivolt. Quindi diciamo che sono all'interno di un range di accettabilità. Non è una batteria guasta. E questo lo vediamo sempre dal grafico fondamentale. Quindi se è tutta un'unica linea verde vuol dire che sono perfettamente bilanciate le celle. Se come abbiamo visto prima c'è questa sorta di montagna russa vuol dire che effettivamente nel caso della tua Leaf le celle non sono perfettamente bilanciate e questo è un dettaglio importante da tener conto quando si guarda il certificato e quindi anche l'acquisto della macchina. In pratica cosa comporta lo sbilanciamento celle? Tu immaginati la batteria ogni singola cella contribuisce a fornire energia però esiste un valore minimo di tensione sotto il quale il BMS l'elettronica a protezione della batteria non consente che una singola cella scenda. Quindi se tu hai un pacco batterie molto frastagliato è molto facile che prima del raggiungimento dello 0% di carica la batteria si fermi ma non perché non hai più energia ma perché c'è una cella la più debole che ha causato il blocco dell'intero pacco batteria. Ottima osservazione. Cos'altro possiamo dire di questa Hyundai che mi pare alla fine vada piuttosto bene a livello di certificato, no? Possiamo valutare anche come è posizionata questa macchina nel parco delle Kona quindi stesso modello dello stesso anno in realtà c'è una valutazione un po' bassa cioè ci sono in giro Kona che sono ancora più performanti. Con capacità migliore. Quindi adesso in ordine di strada percorsa l'ultima è la i3 Range Extender. 91.000 km un'auto del 2017 originariamente con 32 kWh di batteria adesso ha perso il 16% la sua capacità attuale infatti è l'84%. Buona. Buona. È una macchina comunque di 7 anni. Andiamo a vedere anche le celle come sono bilanciate nel pacco batteria. C'è uno sbilanciamento di soli 4 mV quindi la batteria è perfettamente sana. Ah, è una macchina tra le info aggiuntive è un'auto che non ha la pompa di calore quindi consumerà un po' di più rispetto in inverno rispetto a quelle dotate di pompa di calore. È un accessorio. E allora per concludere le abbiamo smontate le abbiamo verificate con strumenti certificati. E che cosa è emerso? Beh, lato meccanico che sostanzialmente le parti sono rimaste quasi nuove e poi c'è la batteria ovviamente la protagonista di questo video. Beh, gli anni e i tanti chilometri ovviamente hanno portato ad un degrado come prevedibile ma questo degrado è stato tutto sommato molto graduale lineare e quindi un'auto come la Tesla con più di 430.000 km beh, è l'esempio che anche dopo tanti anni e tanta strada beh, non è ancora arrivato il momento di sostituire la batteria. E allora a questo punto come sempre tiro in ballo voi dopo tutto quello che ci siamo raccontati in questo video voi come la pensate sull'auto elettrica? Beh, ditemelo qui sotto nei commenti. Ciao, ciao.